Non so se sia davvero la scelta giusta Ti sembrano troppo alla moda? E non è proprio quello che vuoi che siano? Sì, sì, ma dovrebbero essere in anticipo sulla moda Perché se sono alla moda adesso sono già praticamente fuori moda Ma non ha alcun senso Forse dovrei prendere quelle qui tacchi a spilla Tu cosa ne pensi? A meno che non ti piaccia inciampare ad ogni passo I tacchi per un cavallo sono abbastanza inutili Au contraire, sono perfetti nelle situazioni più diverse Eventi formali, tè del pomeriggio, tè serali, tè informali, tè al mare, tè regali Sto attenta con quei brillantini Oh, ho gli cioccoli pieni Abbiamo finito qui? Tutto questo è così noioso